si fatti un'impennata vai indietro, in avanti fai tanca delle fogge del cilindro, impara anche male si sta per farla dove cazzo vai? la strada è questa no, non puoi far così non impari più a fare salite ma che con la gomma così? senza gomma, senza attrizione davanti anche arriva a mano qua è caduto come me si è appoggiato ah, stavolta la prendete ai, si, le è scappata la mar eh, ma le è scappate finché ce l'hai devi dargliela tutta in un momento che tecnica è quella? che tecnica è quella? che tecnica è quella? spingi il mulo che va no, la prendo con i denti e la porto su a mano questo è andato a far funghi, busti a tarla legna ma che cazzo? va bene grazie a tutti